Non solo radio con Patrizia Simonetti, settimanale di cinema, teatro, musica ed eventi a Roma, una collaborazione tra Radio Antenna 1 e Spettacolomania.it. Nella splendida terrazza Giardino di Villa Medici, sede dell'Ambasciata Francese a Roma, alla presenza di ospiti e dei diretti interessati, si è svolta mercoledì sera la cerimonia di premiazione dei Globi d'Oro 2017, i premi della stampa estera al cinema italiano. Tra questi, quello al miglior film, La stoffa dei sogni di Gianfranco Cabiddu, al miglior attore, Renato Carpentieri per La tenerezza di Gianni Amelio, la miglior sceneggiatura è quella di Paolo Virzie e Francesca Archibugi per La pazza gioia, la miglior commedia, Lasciati andare, di Francesco Amato, mentre la miglior opera prima, La ragazza del mondo, di Marco Danieli, e poi il Globo d'Oro alla carriera Dario Argento. Mentre il Globo d'Oro per La miglior attrice è andato a Isabella Ragonese per Il padre d'Italia di Fabio Mollo e quello per La miglior musica, a Enzo Avitabile, per Indivisibili, di Edoardo De Angelis. Eccoli al nostro microfono. Sono felicissima perché è come un applauso fragoroso per un lavoro che abbiamo fatto tutti in questo film, quindi mi sembra di doverlo dividere con attori, con tutti i tecnici e soprattutto con Fabio Mollo che mi ha regalato questo personaggio così difficile sicuramente perché non è facile far sì che Mia sia amata dal pubblico perché è un personaggio un po' scostante all'inizio. Io ho detto sempre che questo è un film tanto calato nella realtà che solo io avrei potuto sbagliare le musiche per due motivi. Uno che nasceva anche un po' ispirata ad alcune mie canzoni e due che secondo me basta, secondo me se uno si abbandona a quella che è la storia, se uno si abbandona all'emozione, più che scrivere tu riesci proprio a tirare fuori una musica che vive lì, che è lì, che nasce esattamente come nasce il film. Ciao, sono Isabella Aragonese, un bacione a Radio Antenna 1. Ciao a tutti, sono Insavvitabile, un saluto a tutti gli amici di Radio Antenna 1. Vi voglio bene. Presentata la nuova stagione dell'Ambra Iovinelli, lo slogan di quest'anno è tutta un'altra storia visto che il nuovo cartellone prevede un'insolita alternanza rispetto alla tradizione del teatro tra comicità e grandi classici, ma sempre rispolverati e rivisti, come sarà per Ziovania di Chekhov nella versione di Vinicio Marchioni, che ne è anche il regista, oltre ad interpretarlo assieme a Francesco Montanari. Stiamo cercando di riportare questo grandissimo testo della storia del teatro in un'ambientazione italianissima, quindi attraverso la scrittura di Chekhov poter parlare anche della crisi di questo paese, di questa piantagione che è il nostro paese, che non produce più, che è in crisi, che è piena di debiti, all'interno del quale si inserisce anche, speriamo di riuscire ad inserire anche le difficoltà del fare teatro in questo paese oggi, senza tradire naturalmente la struttura, la scrittura, le storie d'amore che ci sono all'interno di Ziovania e tutte le atmosfere prettamente Chekhoviane, diciamo così. Io faccio Astrov, che è il medico, amico, diciamo un po' il personaggio un po' fuori da questo nucleo familiare così chiuso, il controaltare di quello che succede al di fuori di questa famiglia, di questa società. Un grande saluto a Radio Antenna 1 da Vinicio Marchioni, ciao. Mercoledì 21 giugno in Piazza Farnese per la Festa della Musica il concerto gratuito di Cosmo e la FAM. Venerdì 23 giugno all'Ippodromo delle Capannelle parte la non edizione del Post e Pay Sound Rock in Roma, che quest'anno prevede ben 18 live. Dalle prime date dei tour di Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson, Alter Bridge, After Hours, a live evento The Offspring più Pennywise più Milan Colin, dalla festa musicale con Manarino e Orchestraccia all'unica data italiana dei Phoenix. Si parte venerdì 23 giugno con Damian Marley, il più giovane dei figli di Bob Marley e sabato 24 con Daniele Silvestri, evento speciale fuori dal suo tour tutto dedicato alla sua Roma, mentre domenica 25 giugno Depeche Mode sono allo Stadio Olimpico. C'erano tutti, ma proprio tutti, al Charity Gala di Unlights Lazio a Palazzo Doria Panfili, a sostegno della lotta alla EDS. Madrina d'eccezione, Noemi. Sono molto contenta di essere qui, assolutamente, perché a parte che queste sette sto cantando poco, quindi mi danno l'occasione di cantare mi fa piacere, poi soprattutto per una causa importante come quella che è la ricerca per l'HIV. Insomma, spero di allietare la serata, ma spero che tutto ciò abbia un grande senso che è quello di aiutare gli altri. Ma perché stai cantando poco quest'estate? Perché sto facendo il mio disco e quindi sono concentrata su questa cosa, un disco che dovrebbe uscire fra qualche tempo e, insomma, spero che vi piacciano anche le nuove canzoni. Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna 1, da me, io sono Noemi. Ciao! Tra i primi ad arrivare sono stati Brando Pacitto e Angela Curri, poi Amy Stewart, Andrea Bosca, Valentina Romani e Alessandra Mastronardi, alla quale non potevamo non chiedere di Master of None, la serie di Netflix di cui è coprotagonista accanto ad Aziz Ansari. Una serie che forse la mia generazione, la generazione dei trentenni dovrebbe vedere perché finalmente diventa protagonista anche dopo tanti anni di assenza. È una serie dove si ride, si piange, si scherza, è una serie molto cinica. Non racconto niente perché voglio che la vediate, quindi... La prima stagione è su Netflix da un anno e mezzo, è uscita il 12 maggio la seconda serie e io sono protagonista insieme ad Aziz Ansari e a tanti altri attori bravissimi, quindi guardatela! Un grande abbraccio a Radio Antenna 1, da Alessandra Mastronardi. Ciao! Ed è tutto per oggi, alla prossima settimana!